Bramo una città in cui ognuno possa vendere senza danno, con buon prezzo e qualità senza affanno. Sogno un consorzio fatto di mercanti solidali fra loro, di cui tutti si possano fidare e non intenti a vendere argento per oro. Questo è il mio desiderio. Nessun garzone a cui dire io mi lagno. Al nome di Dio e del guadagno. Franceschino ma che bella giornata che è oggi! Senti ma ti va di andare a conoscere tutti i negozianti del consorzio Pratoce per andare a conoscerli e anche a fargli delle domande sulle loro attività? Va bene? Allora partiamo! Franceschino non hai voglia anche te di fare una cosa, di passare una serata diversa dal solito. Io ti ho portato qui ai Wallace in piazza Mercatale a Prato per sentire che musica dal vivo possiamo sentire per esempio stasera. Ciao Simone! Ciao Giacomo come stai? Bene e te? Ciao tutto bene. Allora senti siamo io e questo mio amico qui Franceschino Datini che forse ne avrai sentito parlare. Stasera vorremmo sentire un po' di buona musica dal vivo. Siamo nel posto giusto? Siamo nel posto giusto anche perché insomma oltre a bere e mangiare offriamo anche delle altre musica dal vivo. Ecco ma dove suonano questi cantanti? Guarda se vuoi ti faccio vedere il palco. Vieni! Che meraviglia! E qui tutte le sere c'è qualcosa di diverso? Tutte le sere sì offriamo diciamo musica da musica live suonata diciamo da artisti della Toscana, del mondo. Toscana, del mondo qualche d'uno è venuto diciamo anche dall'America. Davvero? Sì per questo sì facciamo musica blues quindi tendenzialmente insomma l'origine è quella. Musica rock magari più sul fine settimana e ogni tanto diciamo facciamo anche qualche serata jazz. Ho capito e quindi noi ci mettiamo qui e stiamo a sentire. Venite qui, mangiate, bevete, ballate no, ballate no, però cantate. A birre come siamo messi in questo meraviglioso pub? A birre diciamo la caratteristica delle nostre birre è che sono artigianali e vieni ti accompagnano qua al banco. Perché se no la birra classica ce l'hanno tutti. Invece qui si beve la birra artigianale. Abbiamo la birra artigianale sia belga che tedesca. Addirittura? Questo è un marchio insomma di birra che è esclusivo di Monaco. È una birra così dicono la bevono diciamo gli abitanti di Monaco. Ora in questo periodo siamo anche con l'Ottoberfest e quindi ci hanno mandato botti birra a fiumi originale tedesca. insomma che è prodotta a Monaco e in più specialità del Belgio dalle birre rosse alle birre chiare. Venite ai Wallace in piazza mercatale a Prato del consorzio Prato C'è. Prato C'è e Wallace C'è. Salute. 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 Grazie.